Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui in questo nuovo video di consigli per il DM. Questo ovviamente vale per tutti i giochi di ruolo, è un discorso ampio, lo metto in questa rubrica perché la reputo una di quelle più seguite e gente molto curiosa di come poter approcciare certi aspetti e quindi io lo vedo come un consiglio. Allora il tema di oggi è come modificare, modare per usare un termine moderno, un gioco di ruolo. Innanzitutto bisogna capire cosa si intende. Il gioco di ruolo in sé, io posso parlare ampio, porto ovviamente il D&D come esempio perché quello più conosciuto è il focus. I giochi di ruolo, specialmente i D&D, hanno vari strumenti per essere modificati. C'era nella 3.5, nella quarta pochissimo, veramente poco, nella quinta ho ripreso tantissimi strumenti 3.5 inseriti dopo che sono opzionali, vanno inseriti, vanno tolti, vanno modificati, è modulare e quindi qui ci sta di potersi muovere molto liberamente. Questo aspetto ci sono anche in altri giochi di ruolo, alcuni non l'hanno per niente, proprio perché dipende dalla natura, dalla complessità e da quanto è meccanicamente articolato. Ma la maggior parte di manuale al colletto ti dicono guarda se alcune parti del regolamento non ti servono, ti sono ostiche, non usarle. Il togliere è comunque una modifica, non è sempre aggiungere il meglio, alle volte il togliere rende il prodotto migliore o rende più utile a quello che ti serve, perché è sempre comunque relativo in basso alle tue esigenze, a quelle dei player. Detto questo, quando modificare un gioco di ruolo? Quando a te serve? Questo è chiaro, semplice e lampante. E qui voglio mettere parola io, nel senso voglio portare la mia esperienza oltre a ventennale, ok? D&D e altro. La modifica è una parte che tutti i master portano, perché ovviamente è il narratore barra il master che fa questo. Il giocatore di solito propone, a me piacerebbe e se proprio lo vuol fare diventa master. Alle volte è questo che spinge qualcuno a diventare master, il metterci le mani, il poter fare un prodotto personalizzato. Questo è un sentimento bellissimo, perché l'essere umano è creativo, è inventivo, si mette sempre a provare, riprovare, magari sbagliando, ed è lì che migliori con l'errore. Prossima volta prendi l'errore e rendi sempre meglio. Risbagli, farai sempre un lavoro migliore, fino a che non è quello che non è il meglio per tutti, ma il meglio per te o per i tuoi giocatori, perché questo è pur sempre un ambito relativo. Ok? Detto questo, Gedi si presta parecchio a questa cosa perché ti da già degli strumenti. Quindi io consiglio sempre di mettere le mani su un gioco di ruolo quando si vogliono fare delle modifiche perché lo si personalizza, lo si customizza, si dà personalità, è il tuo. Se una parte del gioco non serve, la si toglie completamente. Se una parte del gioco sembra complessa, la si semplifica e va bene. E qui partono tutte le mie premesse, tutte. La prima premessa, la più importante, bisogna leggere il gioco. E non è banale. Tu prendi un manuale, per esempio il giocatore Dungeon Master, Dungeon Dragon, sono pesanti, sono duri da leggere, perché non hanno niente di narrativa all'interno e sono molto molto schematici. Sono le regole di un gioco grande e complesso. Prima di poter fare delle modifiche, lo devi prendere appieno. Devi capire l'intenzione dei game design che ci sono stati dietro, il perché e capire cosa stai giocando. Perché purtroppo io ho visto tante persone iniziare D&D copiando e imparando da altri, che è bellissimo, ma ti perdi tutta quella parte. Ovviamente c'è gente che non gli interessa, ma non sanno che il D&D, neanche sanno che il D&D è un dungeon crawling con una componente molto board game, dal peniature a i quadretti, incentrato su loot px oggetti magici, che non premia ovviamente il lato di raccontarsi le storie. La narrazione condivisa non è spiegata nel manuale, è uno strumento di altri giochi, eccetera eccetera eccetera, ma questo si viene solamente informandosi. È normale. Tutte le modifiche che molte persone portano in questi giochi e pensano di averle inventate, e ci sta perché loro magari non si informano, sono presenti da almeno 40 anni in altre. Quindi strumenti affilati, provati, testati da persone che lo fanno per lavoro e sono molto competenti. Quindi è qui il consiglio. Avete tempo, vi piace, fatelo, ma se dovete mutare un gioco tanto, molto, vi consiglio, guardate altro, provate altro. Uno perché in realtà fate prima a provare un altro gioco, con una spesa magari minima, prendete magari quello strumento che vi interessa, lo conoscete e se proprio volete lo portate sull'altro, col minimo sforzo, senza fare centomila test. Due, potreste capire che quell'altro gioco per quella situazione fa quello. Io vorrei farvi passare un concetto che non c'è un gioco di ruolo, devi giocare quello per tutta la vita. Molti lo fanno, un po' per pigrizia, un po' per passione morbosa, ma i giochi di ruolo sono strumenti, ce ne sono tanti. Giocarne a uno, passare a un altro in base alle persone, situazione, status emotivo, è questo il fatto. Cioè tu giochi di ruolo, c'è la differenza tra giocatore di reti e giocatore di ruolo, è questa. Il giocatore di reti gioca solo a quello, tutto l'anno, tutta la vita, campagne, finché gli piace, rimane lì. Ovviamente fa cose incredibili, può farlo infinito, sono d'accordo, ma rimane lì. Il giocatore di ruolo gioca tutto e gioca anche a D&D. Non si fa mancare nulla. Vedi, prova. Io ne ho fatti tantissimi, ne leggo tantissimi e continuo a farlo. Più lo fai, io ci trovo un divertimento incredibile a prendere un manuale nuovo sulle mani e mettermi a leggere. Purtroppo, ve lo dico a voi, il manuale D&D, il master, il giocatore, anche i mostri, è pesante. È pesante, non c'è storie dentro, tanto schema, tanta struttura. Gli altri giochi sono molto più divertenti da leggere, sono proprio dei romanzi, raccontano storie e ti interessano e ti fanno capire perché quella meccanica si lega alla narrativa. Sono differenti, non c'è niente di male. Però io porto una testimonianza di qualcuno che ha visto, posso dire, tanto, tanto sarà magari tra qualche altro anno che aumenterò questo bagaglio. E vi dico la mia impressione, la mia opinione. Quindi, il mortare è giusto, ma quanto, perché e come? Capite? Se tu devi mortare un gioco tantissimo, cosa significa? Che quel gioco è il momento di cambiarlo. Non vuol dire buttarlo via. Vuol dire che magari devi fare un periodo, provare altro, provare altri, vedere, far provare, far stimolare la fantasia e magari cambiare anche i generi e tutto quello che è correlato al mondo. Questo significa che il gioco di ruolo non va sempre, ah, ci sediamo, facciamo quello. Deve stupire. Cioè, io con un mio gruppo propongo giochi sempre diversi, solo shot o breve avventure. Quando troviamo un gioco ad un altro video, troviamo quelli che ci piacciono parecchio, non è che ce ne fermiamo a uno, vanno a lottazione. Sono quelli, quel pool, che aumenta nel tempo con nuove uscite. Adesso non vi dico ovviamente di seguire sempre ciò che esce e prendere tutto. Informarsi, chiedere, vedere. A parte mi viene molto in aiuto un negozio di giochi di ruolo che è un punto di incontro, come parli, con persone con la stessa passione e quindi hai un feedback. E questo anche l'appassionarsi. Non vi dico fare come mettersi a guardare game design, tutto il funzionamento, perché anche io nella mia vita, quando giocavo sulla D&D, giovane, per fare qualcosa di diverso, inventare giochi di ruolo. In maniera semplicissima, schema semplicissimo, insieme all'altra operazione, inventare un gioco di ruolo in realtà è semplicissimo quando hai una base, hai dei dati, ti fai una struttura. Dopo se viene bene, viene complesso, viene semplice, quello tanto l'importante e l'obiettivo è che diverta. E che diverta. E che sei incentrato su ciò che il gruppo e il master chiede. semplice. Quindi tutto torna al modding, fate di passare il termine. La modifica è la necessità, la ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, di tenere sempre la fiamma accesa. Perché sono persone che gli piace magari per anni tirare sempre il dado, somma di danni, TS e andare avanti. Ma altre che magari vogliono dei stimoli, magari vogliono che i loro dialoghi abbiano impatto, magari vogliono un sistema che regolamenti rese, cose varie. Cioè, ragazzi, c'è un mondo di cose che neanche vi immaginate a livello realistico. E neanche io, io ogni giorno scopro una cosa nuova. E questo mi tiene sempre interessato, sempre affascinato. Ed è questo che è il bello dei giochi di ruolo, è il punto forte. Cioè, tu puoi giocare a un gioco anche tutta la vita con i tuoi amici, mettendoci sempre le mani. Ma non devi. Ma non devi. Sei libero, tanto, tanto libero. Devi prendere tantissimi strumenti. Lo puoi inventare su una pianta. Ne puoi vedere tanti. Ne puoi tenere uno. che porta i D&D, per esempio, il più famoso, è quello che ci hanno fatto veramente tantissime persone. La libertà che ti dà questo è veramente infinita. Lì è lo step successivo. Tu, persona, è la tua passione, perché c'è anche chi ha la passione primaria, secondaria, terziaria, chi si siede e vuole stare con gli amici. Cioè, tutto va benissimo. Ma tu hai questa forte passione per i D&D? Magari è per il gioco di ruolo. Pensaci un attimo. Guarda altro. Parla con altri. Vediamo. Proviamo. Usare strumenti diversi. Master la rotazione. Il semplice fatto magari di mettere una regola nuova. Ti incuriosisce. Cambia tanto il gioco. Serve o non serve? Passi oltre. Vedi. Scopri. E io, dal mio aspetto, questo ovviamente va col carattere, i gusti personali, e dal mio aspetto, io ogni giorno, scoprendo giochi di ruolo, mi piace tantissimo. E questo non vuol dire che non giochi vecchi. Non vuol dire che quello che hai fatto prima è peggiore in qualità. È che gli esseri umani evolvono, cambiano. E anche velocemente i stessi gusti. Se ci fate caso, magari il gruppo di una vita che falta la campagna, magari il tenore è sempre alto, è sempre bellissimo. Partono benissimo, poi perdono un po' di interesse, poi magari riprende. E non sempre è dato dalla storia, ma è dato dalle persone. Da ciò che provano in quel momento, da la loro vita. Questo è l'essere umano. Quindi per questo io ho provato, e vi posso dire funziona tanto, c'è il gioco adatto ad ogni situazione, ad ogni età, e anche ad ogni master. Magari ci sono master che, uso il master termine, sarebbe narratore, quello più comune nel mondo GDR. Ci sono narratori che, di edì, gli è tanto tanto ostico. Cioè tanto, non riescono né nelle loro corde, altri giochi di ruolo in pochi secondi sono già formati. A feeling, a pelo, così. E casi opposti. ma non lo sai, finché non vedi, non tenti, non ti butti. Perché comunque sia, non è mai tempo per avere cose nuove, qualcosa ti lascia sempre. E se vedi che non fa per te, cambi o stai, tieni, lasci. Comunque la riflessione, bisogna sempre farla. E' quello che voglio? E' quello che vogliono? E' quello che vorrò proporre? E' quello con cui voglio costruire la mia storia? E' lo strumento giusto? Troppe cose ci sono, troppe cose con questo sistema a livelli che ce l'ha praticamente solo di D. Tanta tanta roba ragazzi, tanta tanta roba. Con questo per dire che il gioco del mondo del GR è ampio, è bello, è in continua evoluzione, specialmente in questi anni, d'oro che si sta veramente esplodendo. E questo non significa, concludo con l'ultima cosa, prendere solo il nuovo, solo quello che esce. C'è anche tanto materiale vecchio, facilmente reperibile, che sono delle perle, che sono cose incredibili. L'unica limitazione, abbiamo internet, quindi con quello con un po' di tempo è facilissimo trovare tutto, c'è tutto, averci dei feedback, dei svolti in tempo reale, trovare persone non è sempre semplice, perché comunque sia interlacciarsi a un'incicloperia, leggere una cosa, parlare con qualcuno che l'ha fatto, è un'altra, è un'altra. Un'opinione è differente da una lettera, e specialmente nel mondo di D.R. dove è sentimento, dove è magari anche passione, tempo e feeling nel tempo, la conoscenza puramente cartacea non trasmette il tutto, ok? Per quanto, dopo, se qualcuno è interessato a vedersi del game design, come creare un gioco di ruolo, le tecniche moderne, quello, per carità, anni anni di testing è utile, è utile, anzi, proprio perché c'è lo step successivo, io voglio farci proprio uno studio, c'è la figura professionale che crea giochi di ruolo, ci si mette, c'è tutto strutturato ormai, quello è lo step successivo, buttarsi in qualcosa tra virgolette accademico, prenderlo come studio. Io ecco, per me è una passione, lo prendo, vedo tutto, leggo tutto, faccio un mischione, è il mio carattere, il mio modo d'essere, provo tutto e vi dico una cosa, concludendo il video, avrò provato più di 50 giochi di ruolo diversi, adesso non ci aspetta contarli, e quando riprendo un manuale che ho letto magari anni fa, vecchio di un giochi di ruolo, lo apro, e lì per lì, io nel gioco non so niente, tu lo apri, vedi con le quattro parole, tu te lo ricordi, perché la mente umana è settoriale, cioè tu in realtà non ti perdi niente, hai bisogno di quel pulsante, di quella spinta, e tutto ti ritorna, e tu riprendere ciò che lasci dopo tanto tempo, quando hai il manuale su mano, è semplicissimo, questa è una cosa a mio avviso bellissima, e penso che vada per tutti, quindi concludo questo discorso molto ampio, modificare i giochi di ruolo ovviamente sì, ma porsi la domanda, faccio prima, modifico solo, vedo altro, prendo altro, faccio altro, ok? Perché il gioco di ruolo è tutto qui ragazzi, è tutto qui, non servono dadi, tarocchi, carte, perché lo puoi fare anche con la morra cinese, lo puoi fare anche con le langette d'oro d'oro d'oro, un gioco di ruolo, con qualsiasi cosa, con le tessere del domino, con la torre dell'uiazze, l'ho visti, non è una battuta, questi l'ho visti, quindi è qui, è qui, vi ringrazio per aver seguito fino a qui, scusate se è molto lungo però, è un argomento tanto tanto ampio che mi tocca e tocca tanti, forse tutti, i giocatori di ruolo e la voglia di mettere, creare e inventare. Fatemi sapere la vostra, se si tenete utile questo video condividetelo con altri membri di giochi di ruolo, con associazioni, con chi vi pare, in modo che magari nei commenti o dei risvolti ho delle opportunità di scambio, perché io sono sempre aperto, quando posso vi rispondo, a interlacciarmi, a avere opinioni, a avere impressioni, le storie, i racconti, perché è interessante condividere, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.